L'obiettivo è quello di portare a conoscenza di tutti i candidati le problematiche legate alla A24 e alla A25, di far conoscere con carta alla mano la battaglia che i sindaci e gli amministratori stanno portando avanti da oltre un anno e per avere sin da ora l'impegno a trovare insieme, anche e soprattutto dopo il 10 febbraio, le soluzioni definitive al problema. Si legge così in una nota degli amministratori di Lazio e Abruzzo che sono pronti a incontrarsi di nuovo, anche con i sindaci, per discutere della sicurezza e del caro pedaggi delle autostrade A24 e A25, di cui la scadenza per la proroga della sospensione è fissata il 28 febbraio. I sindaci hanno anche inviato una missiva al ministro Toninelli per sollecitare l'accoglimento delle stanze, già numerose volte reiterate, e richiesto un incontro per avere aggiornamenti in merito allo stato delle trattative. Sono state inoltre inviate lettere ai presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, nonché ai presidenti delle commissioni trasporti e quella dei lavori pubblici, per richiedere loro un incontro e un sostegno ad una definizione positiva sempre e solo nell'interesse dei territori rappresentati. Infine, è stato rivolto un ulteriore appello al presidente Mattarella, stante il mancato riscontro alle precedenti missive. In attesa di risposta, gli amministratori e i sindaci si incontreranno domani, 31 gennaio alle ore 18, nel comune di Carsoli.